ciao a tutti ragazzi ciao video di oggi dedicato all'unboxing della versione ovviamente per switch di baionetta 3 trinity masquerade edition eccoci qua a questa limited guardate quanto è grossa la scatola si metto la mia mano per fare il confronto però facciamo vedere anche il vero è davvero stupenda con baionetta 3 che al momento è esclusiva di sned switch se non sbaglio si esatto e adesso andiamo ad unboxare qui troviamo di lato si gli adesivi barra scotch si esatto si fai con estrema cautela insomma intanto sì perché effettivamente sono abbastanza rognosi da da aprire senza cercare di spaccare qualcosa io direi che ci fermiamo due secondi hai fatto no no penso di aver senza troppi danni sì sì no perché appunto sarebbe un peccato rovinare la scatola ecco allora vediamo un po allora dovrei aver tolto tutto lo scotch ok mamma mia veramente veramente vuoi provare a no 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 ce la facciamo ce la facciamo allora vediamo un po cosa contiene piano caspita ok vai fa il piano accidenti chiaramente il gioco si abbiamo anche il gioco e l'artbook eccolo qua c'è questa specie appunto di cofanetto intanto vabbè prendiamo il gioco come si può vedere eccolo perfetto poi qui abbiamo l'artbook e poi qua all'interno ah no aspetta allora è quello vai allora è questo l'artbook cavolo porca miseria ci siamo eh sì perché è the art of allora no anche perché questo è abbastanza leggero aspettate qui è un mega cofanetto no l'artbook è enorme cioè caspita cioè guardate l'artbook quanto è grande cavolo caspita qua vorrei aprire vediamo un po sto magari attenta a non rovinare ah no ecco ecco cosa c'era allora qui abbiamo vabbè un'altra custodia ecco aspettate perché abbiamo sì le altre copertine giusto bellissimo allora vedete qui abbiamo la copertina per baionetta 1 bellissima tanta roba quella del 2 ecco sì con le differenze che qui ci sono tutti i personaggi dietro sì molto bello a differenza insomma di quella originale e ecco qua infatti possiamo già fare un confronto con questa vedete comunque sono molto molto belle tanta roba e giustamente piuttosto che magari toglierla a questo ci hanno dato un'altra custodia di plastica dove inserirle e adesso andiamo a dare un'occhiata anche all'artbook the art of baionetta sì in effetti aveva più senso che fosse sì questo l'artbook che quello era praticamente molto piccolo sì infatti mamma mia cioè in realtà la nintendo aveva già fatto degli artbook un po' più piccoli però ci sta che anche per far vedere bene le illustrazioni tutto fosse di questa grandezza effettivamente caspita il problema è anche aprire la cosa la pellicola di questo di questo artbook ok vai che accidenti tanta roba allora vediamo un po' aspettate che cerco di volevo inquadrare per bene perché ecco qua non so quanto si vede quanto si vede perché è molto scuro eh esatto volevo aspetta ah giustamente spero che si veda qualcosa dal video perché ecco no no vabbè quando ci sono i colori si dai si ora si va bene accettate gli sketch preparatori bello sì direi che si vede con tutti i vestiti le armi chiaramente bellissimo cioè io ricordo abbiamo anche il nuovo personaggio viola il costo di questa collectors è 90 euro ma cavolo li vale tutti un artbook veramente bellissimo o appunto anche grande cioè sì infatti sì qua comunque tornano anche i personaggi dei capitoli precedenti bellissimo infatti non vedo l'ora di giocarci insomma eh sì anch'io sì poi è bello che c'è anche volendo la funzione multiplayer quindi uno può giocarci in due l'abbiamo visto sì come il secondo cioè guardate là è un artbook veramente veramente spettacolare porca miseria ok magari procedo un pochino se no devo dire che le collectors della nintendo sono davvero fatte bene sono davvero fatte bene cioè cose cose veramente assurde tanta roba porca miseria ok caspita vai passiamo alla parte delle armi le armi insomma sì poi sono un sacco di pagine qua siamo solo a pagina 80 e ce ne è no appunto cioè infatti io scusate ma salterò un po' di roba se no o comunque vado un po' più no vabbè a parte quello però dico non volevo far durare magari in maniera eccessiva il video poi limited che è andata sold out immediatamente c'era una cosa incredibile proprio sì purtroppo la maggior parte di queste diciamo che se non ti piazzi lì subito non la ritrovi giusto quella di Fire Emblem visto che a distanza di mesi c'è sempre però dipende anche un po' magari dal videogioco ecco mamma mia veramente bellissimo Star Trek eh sì qua ci sono spettacolari proprio tutti gli ambienti di gioco caspita sì no questo veramente molto bello cioè tanta roba davvero un artbook completo sì no veramente una bella collector's cioè senza senza discussione proprio sì l'unica cosa peccato che se uno per ordinava la la collector sul sito o comunque anche non la collector ma il gioco base ti davano anche la steelbook dal my nintendo store però il problema è che anche lì hanno sì è più facile sinceramente ordinarle altrove perché appunto noi avevamo provato a prendere un gioco però non c'è stato verso e quindi non so quante coppie abbiamo a disposizione lì però appunto noi ormai l'avevamo ordinata e considerando che era andata sold out abbiamo preferito aspettare che ci arrivasse da dove l'abbiamo presa piuttosto che rischiare di non riuscire a prenderla sul my nintendo store ecco no vabbè è bellissimo però devo dire che comunque il contenuto tutto il contenuto di questa collector è davvero si davvero molto bello caspita tanta roba bellissimo ok ecco quindi ragazzi questo diciamo che era il nostro video sulla collector's edition di baionetta 3 se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao